Con il governo d'Alfonso ormai in dirittura d'arrivo, è arrivata ieri in extremis l'approvazione della legge sulla nuova Pescara da parte della Commissione Bilancio della Regione Abruzzo in attesa della discussione in Consiglio regionale. Se quattro anni fa, con il risultato del referendum, i cittadini diedero un'indicazione precisa sulla strada da seguire per la nascita della città metropolitana, la politica continua ad essere attraversata da sentimenti contrastanti. Nessuno si vuole opporre alla volontà popolare, ma nei fatti scetticismo e diffidenza, soprattutto dei comuni di Spoltore e Montesilvano, stanno rallentando il percorso di fusione. Se il progetto uscito dalla Commissione dovesse passare, nel 2019 un nuovo Consiglio regionale e le nuove amministrazioni di Montesilvano e Pescara si troveranno a dover completare il percorso avviato. Nel frattempo, l'attuale amministrazione montesilvanese non ci sta a diventare periferica rispetto al capoluogo. Ma guardi, questo è un provvedimento tipico di chi, prima di andare via, vuole avvelenare i pozzi. Hanno avuto quattro anni di tempo per dialogare con i comuni interessati e per far capire ai cittadini cosa si volesse fare. Con lo specchietto dell'allodore dei risparmi si vuole far credere che la qualità della vita di tutti i cittadini interessati possa migliorare. Così non è, perché sarà il caos più assoluto. Non vi è una sola riga nella legge che disciplina ciò che accadrà in termini di materie che i comuni hanno attribuiti. Io credo che di questo si doveva parlare. Hanno avuto quattro anni di tempo, questo è solo uno spot. A storcere il naso è anche il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, che punta il dito sul mancato coinvolgimento dei sindaci e dei consigli comunali. Io spero che i consiglieri regionali sappiano bene che cosa stanno votando, che cosa andranno a votare, perché poi i territori se ne ricorderanno di questi passaggi che loro fanno, ignorando quelle che sono le volontà delle amministrazioni chiamate in campo. Se oggi o domani passa questa legge, come dovrà muoversi il comune di Spoltore? Ma noi come comune andremo, sembrerebbe dalla prima scadenza, andremo proprio alla fine di questa consigliatura, quindi noi andremo a fine consigliatura. Ma certo è che questo non significa proprio nulla, perché noi dobbiamo capire quali sono i tempi di attuazione. Di tutt'altro parere il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, che crede fortemente in questo progetto, pronto a dare servizi migliori ai cittadini. Io penso che sia un atto epocale, perché la nuova Pescara non è ovviamente rivendicazione territoriale, ma la consapevolezza che oggi c'è bisogno di una ingegneria istituzionale diversa, più efficiente. E questo si ottiene mettendo insieme i servizi. È un percorso difficile, un percorso che noi abbiamo per esempio già iniziato per quanto attiene alla questione del ciclo integrato dei rifiuti. L'avvio del procedimento di fusione di tre società pubbliche va esattamente in quella direzione per poter avere un soggetto più grande, più forte, in grado di erogare servizi migliori. E penso che questa sia la direzione giusta e attendiamo naturalmente con grande interesse il pronunciamento del Consiglio regionale.